Costruiamo tutti insieme! Bravissimi! Ah, sì! È il momento di usare la scavatrice! Wow! Guarda che trova d'acciaio gigantesca! È la cosa più grande che abbiamo espostato! Bautastico, Charger! Ora serve il cemento, tocca a Mix! Per un risultato veloce e sicuro, ho deciso di preparare il mio cemento a presa rapida! Questa cucciola sa mescolare alla grande! Puntare, mirare, sbruzzare! Brava, Mix! Il tuo cemento si è già asciugato! Molto bene! Motor fa boom! 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 Questo sì che è un bullone che può tenere in piedi un ponte come questo! Bulloni! Amo i bulloni! Grandi attrezzi! Arriva la trave! Ben fatto! Squadra di costruttori! Mentre noi pavimentiamo la strada, Mix vernicerà! Mix, sei tu la nostra esperta! Prendi il camion e dacci dentro! Mix! Per caso hai dimenticato il camion? Non l'ho dimenticato! Qualcuno l'ha arrumato! Oh no! Andiamo a cercarlo! Non posso muovermi! Oh no! I veicoli sono bloccati nel cemento! Oh wow! Se sono bloccati non possono lavorare! Così finirò io il ponte e sarò l'eroe di Builder Coe! Io non credo proprio! Ho visto com'è andata con il primo ponte! Abbiamo solo bisogno di Rubble e della sua incredibile famiglia! Niente paura, sindaco Gretway! Finiremo la costruzione! Abbiamo una cosetta che Speedmeister si è dimenticato! Ma davvero? Che cosa è? Noi abbiamo la nostra moto! Yuhu! Motor fa boom! Wow! Fantastico! Forza motor! Viva i nostri eroi! Cemento ha presa rapida! E adesso come mi decemento dal cemento? Esiste sempre una soluzione! Martello pneumatico! Grazie! No! Allora squadra! Finalmente possiamo finire il ponte! Yuhu! Ah-ha! Sì! Bene! È tutto a posto! Motor spiana la strada! È ora di ridipingerlo! Serve una trasformazione alla mix! Vediamo di che colore! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ci sono! Userò i colori dei nostri caschi! Sì! Di tutta la nostra famiglia! Puntare! Mirare! Spruzzare! Ecco fatto! Buonissima! Complimenti! Questo sì che è un ponte! Cuccioli, vi dichiaro ufficialmente i nuovi eroi costruttori di Builder Cove! Sì! Tenga duro, signor Speedmeister! Nostro segnaletico! Tutti indietro, per favore! Non è sicuro qui sotto! Non è sicuro lì sotto? E qui sopra, invece, voglio scendere! Mi è già venuta un'idea! Usi le scale! Ah, giusto! Le scale... Ho costruito così in fretta che forse ho dimenticato di metterle! Salvatemi! Rubble, se non ci sono le scale, come farà a scendere da lì? Esiste sempre una soluzione, Wheeler! Costruiremo uno scivolo! Costruiamo tutti insieme! Siamo quasi arrivati! Spero che i lavori stiano andando bene! Charger, alza lo scivolo! Io lo reggerò con il mio Bulldozer! Ecco che arriva Charger! Rubble come un razzo! Tutti insieme, Charger! Coraggio, Speedmeister! Adesso scivolo in giù! E non dimentichi di dire... È la parte più divertente! A me non diverte! Sarò ancora io l'eroe di Builder Coop! Non importa, arrivo! Ciao! Terraferma! Mi sei beccata! Signor Speedmeister, come ho fatto a costruire il negozio di bici? Credo proprio di saperlo io! Ha preso il nostro materiale! Giusto, è vero! Adesso mi rendo conto di aver fatto una cosa sbagliata e mi dispiace tanto, ma... Ho usato tutto il vostro materiale! Adesso capisco perché l'edificio ondeggia! Speedmeister non ha usato il cemento per le fondamenta! Che emozione vedere il mio negozio di bici! Che sta per crollare! Che cosa posso dire? Colpa mia! Tante care cose! Io vado! Coraggio, squadra! Mettiamo in sicurezza il negozio di bici! Puntare! Puntare! Mirare! Spruzzare! Brava, Mix! Ora possiamo costruire il negozio! Vieni avanti! Bene, stop! Saldatore! E... Fatto! Questo negozio è sicuro e pronto a vendere le bici! Wow! È davvero bellissimo! Un momento, ma dove sono le bici? Dovevano essere già qui! Il camion di Camilla! Sì! Wow! Anche per me è un piacere vedervi! Qualcuno ha ordinato un camion pieno di... bici da grandi! Sì! Che belle! Ora ho tante bici per tutti i bambini! Ehi, squadra! Che bello! È il momento di scodinzolare! Le bici hanno il negozio! Brava, la sua squadra! Ed è bautastica! Ogni cosa che facciamo! Muro della gelateria inchiodato! Ne mancano solo due! Un carico di fogli di plastica... perfetti per un cono gelato! Chiave inglese! Fatto! Questa palla di gelato sembra molto gustosa! Meglio metterla sul tetto prima che il vento aumenti! Piano, Charger! Il vento sta aumentando! Saldatore! Il cono gigante sul tetto è a posto! Pallina di gelato in arrivo! Il vento è sempre più forte! Facciamo in fretta! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Fermate quel gelato! Squadra di Rodol! Seguite la pallina! Oh! Oh, no! Oh! 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 Ricard, a più tardi. Pensavo di avere io problemi con i dolci. Oh, no! La palla sta andando verso i bambini. Dobbiamo salvarli. Rubble come un rozzo. Wow, questo non me l'aspettavo. Spazzo e pulisco, pulisco e spazzo. Era una palla di gelato gigante e volante? No. Mi è venuta un'idea. Userò il bulldozer per mandare di nuovo il gelato in aria. Buona idea. E io la prenderò con il camion. Palla di gelato gigante. Adesso sono pronto. Gelato volante! Io sono in posizione. Ce l'hai fatta! È stato davvero emozionante! Fategli spazio. Sta per saltare di gioia! Willard, è stata una presa fenomenale! Grazie mille, Charger. Adesso mettiamo la palla di gelato sopra il suo cono. Più piano. Più piano. Non lasciarla andare finché non l'avrò saldata. Wow! Saldatore! Devo fare in fretta prima che torni il vento. La pallina di gelato è a posto! Stavolta davvero! Ora non importa più se... C'è vento! Coraggio, cuccioli! Ora finiamo questa gelateria! Ciao! Wow! Eccola là! Con quel colo gelato gigante la gelateria si vede dal parco! Salve, Caffè Carl! Cosa ne pensa? Io credo di amarla! Così potrò servire il gelato a tutta la città con tanti assistenti! Oh, ho dimenticato gli assistenti! Chi mi aiuterà a servire il gelato? Noi! Ecco il gelato! Chi vuole un gelato? Ecco un buon car caramel rosa! C'è tanto gelato! Per tutti quanti!